e buon salve chi si rivede qui mamma mia qui chi si rivede in questo video voi mai tantissimo tempo questo gioco io mi chiamo angela quando ce l'ho ma da quando io non ce l'ho mai ho detto buon salve a tutti questo è un gioco e non mi buon salve a tutti da tanto che non ho fatto sto gioco lo so mi ricordo ragazzi ero contentissima di essere con voi e rieccoci qui e io sono rimasta con voi contentissima sono contentissima che siete e chi si rivede questi trim trattel mi voglio bene trim trattel ma non è rimasta uno bit io ci ho l'ibastù non è facile l'ibastù è cattivissimo di andare nella in questo un attimo non giusto mi sono dimenticato una cosa e chiediamo un attimo sto gioco di cavolo ve lo dico qui seduta tranquilla tranquilla se volete passare nel mio profila instagram lo trovate subito in descrizione e siete contenti io sono contenta di facervi avere voi come oggi anche se non ci comincia siamo lo studio dream trattel prima io sono contenta io sono contenta ecco e no questo 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 si può allora andiamo qui quanti soldi c'ho però tanti però una wow no c'è no c'è coro de luce sono velocissima nooo sono morta non sono più morta ma porca miseria vabbè ripartiamo magari eccoci qui su questa mappa mamma mia giornata limpida voglio guardare su questo qui non c'è nemmeno un'arma perfetta a me e la fine qual è? che non conosco la...ah la fine è 10 ore questo ma non va con me che io ho pochi soldi copro intanto questa ma non posso questa neanche ma che cavolo vabbè cioè guardate mi mando un messaggini perchè in realtà ragazzi io ho 100 amici che mi messaggiano tra questo gioco su roblox perchè ci siete anche voi tipo Noemi e altre cose varie insomma ve lo diamo non è vero non è vero non c'è più la musica ma che tristezza vabbè scusate ma per oggi non compriremo niente va bene cioè però voglio guardare un po' di cose che ci sarebbero io vorrei però la spada unicorno non lo so ma non posso più messaggiare ma se vorrei dire ciao amici mi riconoscete non parlate giusto allora non so se la mia voce giusto ma chi ne so io ciao ah no scusa non te non te che cazzo è questa mina perché a mimina perché a mimina perché a mimina aia ma che male mi ha fatto psss nella mia faccia ma che è l'invasione lo dipicchio con i miei artigli artigli spettaconi e vi va aia ma che si rivede ma che si rivede lei ma che si rivede lei è la mia amica lei che mi ha scelto come amica per messaggiarmi ciao che si rivede lei è la mia amica su roblox io ce l'ho lei ma io ce l'ho dopo vi faccio vedere chi c'ho chi c'ho troppi non sappiamo a chi mi ha saggiato sono presa in panico mi eh ma non vale che che così yay c'è i coltelli yay vi ammazzo non mi può uccidere ma che è uccidere il punkit ma vola ma vola ma vola ma vola ma vola ma vola se mi è tanto spuggi sono morta non sono morta non sono morta sono morta sono caduta muori tu più no ma mori ma li abbiamo certo penso lo stesso ho vinto vinco sempre in questa mappa ragazzi non ci credete ma io vinco sempre in questa mappa yey a parte scrivete sotto in questo canale sotto a questo canale scrivete sotto se è stato bello e ne volete un altro di questo video e datemi 100 like se non arrivate a 100 like non vi faccio più vedere a noi perché la mammy è sempre io ma a parte la mammy non sta più con me non so perché che fiamme non posso amprarle non posso amprarle un cavolo ma che cazzo sono mille non sono mille me non me ne frega come non me ne frega non c'è ma gli altri hanno le armi grazie a piccole poi gli artigli ma che cavolo che una persona tira gli artigli guarda per raccontarvi oggi mi metto la spada nera se riesco almeno mi sono invertita la costiera per caso per caso progo dimmi di no tra clip non c'è perché non è perさい sarà muria wait Scutta ferrerar da flat fatta 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 torsetta di pane ferretta di pane fatta di pane si chiamare fatta di pane prima o poi 3 40 100 Angela Finci si si sono tua amica ma li sono sempre dei ma quante volte non c'è un po' di ribaldare mi metto questo non posso Grazie a tutti.